ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora oggi ho deciso di fare un video per la serie cosplay hacks e secondo me molto importante ovvero una guida sulle lenti a contatto le circolances ovviamente queste cose valgono anche per le lenti a contatto trasparente quindi semplicemente quelle da vista però io in questo caso parlo di lenti colorate perché appunto per i cosplay servono allora per l'occasione ho deciso di utilizzare il mio cosplay della serviglia di bioshock questo video è stato realizzato grazie alla collaborazione di unix o che mi ha mangiato delle lenti che mi vedete oltretutto se volete ovviamente se volete riprodisco se volete c'è un codice sconto del 10 per cento con il nome che scrivo qua sotto e che vi lascio anche nell'info box e ci tendo a sottolineare che è un codice sconto affiliato quindi se voi lo utilizzate non spendete non spendete nulla di più anzi avete lo sconto ma una piccola percentuale del vostro acquisto va a me per il specifico non siete obbligati ad utilizzarlo allora appunto in questo video voglio parlarvi di lenti a contatto tutto quello che c'è da sapere sui lenti a contatto per metterle toglierle curarle eccetera eccetera le lenti che ho utilizzato per questo cosplay sono queste qui che scrivo qua sotto prima di iniziare voglio dirvi la regola fondamentale che dovete sapere e che dovete mettere in pratica quando si utilizzano le lenti a contatto ovvero lavarsi le mani sempre dovete sempre lavarmi le mani nel momento in cui mettete lenti a contatto togliete lenti a contatto pulite lenti a contatto aprite lenti a contatto sempre le mani pulite infatti se siete in giro siete in fiera eccetera vi consiglio di portarvi sempre dietro un'igiene in tante mani perché spesso nei bagni non ci sono i saponi se voi lavate le manine mettete l'igiene in tante mani e siete a posto passiamo a come applicare le lenti allora per me è stato molto più difficile imparare ad applicarle che a toglierle mi raccomando una delle principali cose che dovete sapere quando applicate le lenti a contatto è la posizione corretta della lente prima di inserirla nell'occhio la lente ha una posizione corretta nel momento in cui forma una conca uniforme e omogenea mentre è scorretta quando forma una conca con due bozzetti sui lati e non vi state attenti appunto a inserirla nella forma corretta perché quei due buchini d'aria rischiano poi di darvi fastidio una volta indossata la lente oltre al fatto che molto spesso l'effetto varia quando mettete una lente al contrario per applicarla io in questo caso vi faccio vedere la classica applicazione con le mani perché poi ci sono anche degli strumenti che sono stati creati appositamente per l'applicazione alla rimozione e la pulizia delle lenti però magari di questi vi parlo in un prossimo video vi basta applicare la lente sull'indice o sul medio con due dita aprite l'occhio e inserite la lente appoggiandola io preferisco appoggiarla direttamente sull'iride perché ho gli occhi molto piccoli se avete gli occhi più grandi potete anche appoggiarla sulla parte bianca dell'occhio come preferite dopodiché massaggiate un po la palpebra in modo tale da far eliminare tutte le bolle d'aria proprio per questo si consiglia di applicare le lenti prima di truccarsi io in questo caso non l'ho fatto perché comunque sono già un po abituata a metterle toglierle però all'inizio sicuramente vi consiglio di applicarle prima di truccarvi anche perché probabilmente al primo tentativo non ce la farete quindi la cremerete e rischiereste di rovinare il trucco nonché di sporcare le lenti per togliere le lenti l'errore che non bisogna fare è utilizzare le unghie quindi togliere la lente utilizzando la punta delle unghie perché uno rischiate di farvi male due rischiate di graffiare la lente quindi quando andate ad applicare la volta successiva potrebbe darvi fastidio questo graffio sulla superficie della lente oltretutto è anche un covo di germi quindi state attenti e non neanche utilizzare pinzette tipo quelle per le sopracciglia assolutamente no per toglierle allora ci sono due metodi io uno non riesco proprio a farlo perché ho gli occhi molto piccoli quindi mi è difficile quello che utilizzo io è usare i polpastelli delle dita li appoggio sull'occhio e rimuovo la lente il secondo metodo che è molto più comodo appunto per quelle persone che hanno gli occhi abbastanza grandi è quello di utilizzare i polpastelli degli indici delle due mani quindi appoggiate i polpastelli sull'occhio e sfilate la lente cura delle lenti allora prima di tutto guardate la confezione delle lenti oppure le informazioni sul sito dove state acquistando le lenti dovete fare attenzione a quanto dura una lente a contatto perché una lente può essere giornaliere può essere mensile può essere trimestrale può essere annuale seconda cosa guardate la scadenza vera e propria delle lenti perché nel momento in cui vi arrivano nel pacchetto si trovano all'interno di una soluzione sterile che permette alle lenti di durare anche nel tempo in modo da farle durare di più però comunque questo liquido ha una scadenza quindi oltre quella data non si possono più utilizzare allora gli strumenti necessari il primo è il portalenti che vi danno praticamente sempre l'omaggio su unix così con ogni acquisto vi danno un portalenti seconda cosa la soluzione unica che serve per disinfettare le lenti il portalenti eccetera eccetera terza cosa sono le lacrime artificiali che vanno utilizzate sia per facilitare l'applicazione quindi nel momento in cui vedete che la lente non riesce ad appiccicarsi all'occhio perché magari è un po perché magari avete l'occhio un po secco applicate sulla all'interno della lente una goccina di lacrime artificiali e vi assicuro che la lente entrerà in un battibaleno e oltretutto serve mantenere gli occhi idratati durante la giornata allora quando vi arriva il vostro bellissimo pacchettino di lenti a contatto cosa dovete fare dovete spacchettarle buttare il liquido sterile che c'è all'interno della confezione e pulire le lenti a contatto con un po di soluzione unica dopodiché potete inserirle nel vostro portalenti e dovranno restare lì per almeno 6 barra 8 ore in modo che le lenti si puliscano totalmente del liquido sterile e che voi possiate utilizzarle senza problemi per quanto riguarda il mantenimento e la pulitura io personalmente vi consiglio di pulire le lenti quindi di cambiare il liquido di dare una sciacquata sia al portalenti che alle lenti a contatto stesse ogni 7 barra 10 giorni perché uno col caldo e col tempo le lenti tendono ad assorbire la soluzione quindi a un certo punto non ci sarà più il liquido due per questioni igieniche ovviamente non permettere batteri di proliferare ecco un'altra cosa mi raccomando con il portalenti non scambiate mai la lente dell'occhio destro con quella dell'occhio sinistro e viceversa perché per questioni igieniche è meglio non farlo magari avete un'infezione in un occhio e poi ve la passate all'altro e questa cosa non è carina e niente per quanto riguarda la guida le lenti a contatto è tutto adesso vi faccio una breve recensione di queste lenti a contatto che ovviamente ho provato prima di fare questo video allora queste lenti a contatto appunto arrivano da unix un sito secondo me fantastico il più affidabile che abbia mai provato finora per quanto riguarda la vendita di la vendita di lenti a contatto e parrucche unix vende anche lenti a contatto graduate quelle che ho provato finora sono super comode soprattutto quelle appunto della linea suiti che una marca questa trama in particolare non dà fastidio alla visibilità perché non copre la pupilla non hanno assolutamente fastidio io ci vedo bene poi perché appunto sono graduate quindi io non posso per altro che consigliarvele sono le mie preferite finora tra tutte le lenti a contatto che ho e ad esempio ho provato quelle ad esempio non so se vi ricordate quelle di tocca si vede anche ad occhio nodo che sono molto più spesse infatti sull'occhio danno fastidio spero tanto che questo video vi sia stato utile e niente ci vediamo in un prossimo video ciao